Il territorio della Valle dei Laghi è un territorio reso molto particolare dalla presenza di sette laghi che si raccolgono tutti in più o meno 20 chilometri e soprattutto viene resa particolare dal clima. È un clima mediterraneo che si riflette nella vegetazione, per cui quando si passeggia in Valle dei Laghi si incontrano lecci, tassi, ulivi e soprattutto molti vigneti. Fra questi vi è la nosiola, un vitigno autoctono del territorio che viene coltivato soprattutto sui monti di Calavino dove il terreno è ideale per questo tipo di varietà e la nosiola viene coltivata per il vino santo trentino, un passito molto particolare. L'ecomuseo Valle dei Laghi ha creato sul territorio per portare le persone, i visitatori a conoscerlo e a scoprire questo vitigno autoctono il sentiero etnografico della nosiola, una lunghissima passeggiata che per semplicità è stata spezzata in quattro giri ad anello che partendo dal lago di Cavedine attraversa tutta la valle e termina nel borgo di Santa Massenza. Lungo questi giri ad anello si possono scoprire molti punti di interesse fra i magnifici boschi, i prati, i sentieri ma anche la chiesa di San Siro, la chiesetta di San Mauro e chiaramente Castel Toblino che si affaccia sul lago di Toblino. Sul territorio ci sono circa sei aziende che coltivano la nosiola per ottenere il vino santo trentino. Verso la fine di agosto, per tutto il mese di settembre e anche per qualche settimana, a inizio ottobre viene raccolta l'uva spargola, ovvero i grappoli di nosiola che hanno raggiunto la perfetta maturazione e hanno gli acini ben distanti tra loro. Questi grappoli vengono colti e adagiati delicatamente sulle arele, delle strutture create appositamente per l'appassimento dell'uva spargola. L'appassimento è il più lungo naturale al mondo e dura ben sei mesi. Le arele vengono impilate negli appassitoi, questi locali ben areati di cui dispone ogni cantina e vengono lasciati appassire. Durante l'appassimento si sviluppa una muffa molto particolare, la Botrytis, che attacca gli acini e all'interno, tra le tante modificazioni che fa, abbassa l'acidità della nosiola e ne alza gli zuccheri e contribuisce a dare al vino santo il suo gusto molto particolare. Al termine di questi sei mesi l'uva viene torchiata, viene lasciata a invecchiare e poi viene infine imbottigliata. Ci vogliono circa dieci anni per ottenere una bottiglia di vino santo trentino. Per far conoscere e trasmettere la lunga storia e gli aspetti culturali del vino santo trentino è nata la Casa Cavo Vino Santo, una sala espositiva nata grazie al Comune Valle Laghi e gestita dall'Ecomuseo Valle dei Laghi, presente a Padernione, in uno dei borghi della valle. Questa sala espositiva, grazie a diversi supporti multimediali, coinvolge lo spettatore e attraverso profumi, suoni, immagini e sapori trasmette questi 500 anni di storia. Oltre alla Casa Cavo Vino Santo è possibile compiere anche una breve passeggiata di 20 minuti dove dei pannelli iniziano a raccontare la storia del vino santo trentino. I pannelli sono stati posizionati appositamente sul territorio per invogliare le persone a considerare la Casa Cavo Vino Santo non solo un punto di arrivo ma anche un punto di partenza per uscire ed esplorare il territorio e conoscere anche i produttori. Grazie. 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 Grazie.